Accogliendo parzialmente un ricorso proposto dall'Associazione per la Prevenzione della Lotta all'Elettrosmog, il Tar del Lazio ha deciso che i Ministeri dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione, entro sei mesi al massimo, dovranno adottare una campagna informativa sulle corrette modalità d'uso di cellulari e cordless e sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi a un loro uso improprio. L'Associazione chiedeva l'obbligo dei Ministeri a emanare il decreto del 2001 contenente la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Il Tar, constatato che nonostante il ragguardevole lasso di tempo intercorso, la preannunciata campagna informativa non risulta essere stata ancora attuata e ha ritenuto di dichiarare l'obbligo del Ministero dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di provvedere ad adottare una campagna informativa rivolta all'intera popolazione, aventa oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso di cellulari e cordless e l'informazione dei rischi per la salute per l'ambiente connessi a un uso improprio di tali apparecchi.